Buongiorno Vladimir Vladimirovich, sono Remarciuk Bogdan, ho dieci anni. Vivo nella città di Kisil. Mi dedico al nuoto. Ti piace? Sì, e da quanto tempo fai nuoto? Quattro anni. Niente male, davvero tanto. E ti interessano solo alcuni tipi particolari? Sì, sport acquatici o solo nuoto? Solo nuoto. E quanto riesci a nuotare? Cento metri o che distanze fai? 50 metri, 48 secondi. Faccio nuoto, calcio, box, ho anche la cintura gialla di karate. Accidenti, sei un atleta versatile. E quale tra questi sport ti piace di più? Nuotare. Ma il nuoto prepara bene a tutti gli altri sport che hai elencato. Questo è sicuro. Mi appassionano anche le moto. Costruisci qualcosa da solo? Sì, mio papà mi aiuta. E tuo padre che professione ha? Ingegnere. Dio stesso gli ha visto aiutarti a montare. Comprati una. Risparmia per una moto. Da solo. La moto è pericolosa come mezzo di trasporto. Risparmia per una macchina. È meglio. Sì, più calmo. Sarà più tranquillo sia per papà che per mamma. Mio papà ha 14 anni e ha risparmiato da solo per una macchina. Ecco, cerca di fare lo stesso. Un esempio. Papà, è bravo. E perché ti serve una moto? Mi piace l'idea del trasporto su moto. E ci sei andato? Solo con il quad e il quad è pericoloso. Non guidare il quad. Si capovolge continuamente instabile. In qualche posto accidentato si può andare piano. Non c'è bisogno di correre. Risparmia per una macchina meglio. E come pensi di risparmiare? In che modo? Portare il metallo vecchio. Sì, una buona giusta idea. E poi papà ti aiuterà a lanciare un po' per i buoni voti a scuola. Quale materia scolastica ti piace di più? Il russo, Ops, la matematica. Ho un po' confuso. In realtà entrambe sono molto importanti. E senza la conoscenza della lingua madre è anche una lingua di comunicazione interetnica per il nostro paese multietnico. il che è molto importante perché unisce tutti i popoli della Russia in uno solo, comune. L'organismo in un'unica nazione è molto, molto importante. Quindi la conoscenza della lingua russa è uno dei compiti più importanti che avevamo fin dalle scuole, come insegnanti. Strappato e preso un luccio da sei chili. Io vado a pescare e una volta l'ha tirato fuori papà. Papà ha aiutato. L'ho preso su. Cioè l'hai lanciato con l'esca. L'hai preso. Sì, con l'esca e il mulinello. Ah, l'esca grande e piccola. Com'è? Così. L'esca così e il luccio così. Sì, è un buon risultato. L'efficienza è molto alta. Fantastico. Voglio augurarti il meglio. Continuerai a studiare in questa scuola, vero? O altrove? Creare una domanda. Va bene. Vorrei fare una domanda. Quante ore dormi e ti riposi per essere in così buona forma? Beh, non ti mentirò. Ti dirò come stanno le cose. Ma non prendere esempio da me in questo senso. Oggi ho dormito, per esempio, quattro ore. È troppo poco. Di solito, invece, dormo sei ore. Devi dormire normalmente, almeno otto ore. Hai un sacco di attività fisica, vari tipi di sport. E quindi bisogna essere in forma. E anch'io devo essere in forma. Tipo, oggi ho dormito solo quattro ore. In generale dormo sei ore. Non è perché sono una persona così impegnata, ma perché non riesco a organizzare adeguatamente la mia giornata lavorativa. Ogni persona deve essere critica verso tutto ciò che fa, verso se stessa e trarre conclusioni. Cercherò di farlo. E te lo consiglio. Va bene? Sì, d'accordo. Forza, buona fortuna a te. Sì, d'accordo.